Amici di EcoTV, siamo nel mercoledì della veterinaria. Come sempre in questo giorno della settimana avremo un ospite che ci parlerà delle problematiche sanitarie legate ai cavalli. Sarà con noi Giovanni Conti che tra poco incontreremo. E invece come fuoricorsa ai servizi esterni avremo a Micol Fensi a casa Casillo. Questo è altro dopo la sigla. Mercoledì 22 maggio, ben trovati nella mattina di EcoTV. Andiamo subito a presentare l'ospite di giornata. È un mercoledì e come sempre è un veterinario. Ma è anche di più perché Giovanni Conti che vediamo tra poco inquadrato non è soltanto un veterinario ma è anche un gentleman driver, un piccolo allevatore. Intanto lo salutiamo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Allora come dicevamo la sua esperienza nel mondo dei cavalli non è legata soltanto all'aspetto veterinario. Sì effettivamente mi sono un po' allargato su altri campi ma solo per passione insomma fondamentalmente poi è la professione quella che è una professione che poi la porta anche all'estero e la racconteremo tra poco anche queste sue esperienze. Negli anni è successo anche questo sì abbastanza. Bene un veterinario che lavora nel mondo del trotto, in quello del galoppo e che ha anche esperienze in Svezia soprattutto negli ultimi anni e anche attualmente. Quindi parleremo anche delle differenze che avvengono proprio dal punto di vista sanitario tra l'età della Svezia e di tutte le fasi che accompagnano il cavallo dalla nascita. Anzi da prima quindi dalle analisi sulla mamma in avanti fino a quando poi non arriva alla pista diventa un cavallo adulto e ci fa compagnia anche in tutte le corse che vediamo. Stiamo parlando ovviamente di cavallo sportivo ma non è questo l'unico collegamento di giornata come anticipavamo anche in fase preliminare abbiamo Micol Fensi che è pronta con la sua finestra a indicarci dove è andata oggi. Noi la vediamo con invidia sempre tra campi verdi, cavalli e grandi spazi. Micol buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno. Fare il lavoro che si ama insomma non è da tutti e noi siamo davvero fortunati. Casa Casillo sì e lo facciamo per scoprire quali sono i segreti e con il vostro medico in studio diciamo che siamo oggi davvero ben allineati. per scoprire i segreti di quelli che sono i cavalli di Scuderia Casillo e cavalli che hanno fatto un po' sognare tutta l'Italia. Parleremo di Capital Mail che è già in Svezia ma con delle immagini originali che arrivano proprio dalla Scuderia Casillo in Svezia e parleremo proprio con Gennaro di quella che è stata la meravigliosa vittoria del lotteria e di quello che sarà invece l'Elite Loppet. Parleremo poi e parleremo anche di Elise Ama, questa fantastica cavalla che ha vinto il Trinacria e che sta viaggiando verso nuovi orizzonti. Parleremo inoltre con Manuele Casillo, il figlio di Gennaro che in tarda età decide di dedicarsi alla Scuderia del Padre, diventa gentleman, mira un cavallo cosmico polare anche lui in Svezia perché correrà una prova di gruppo 1 nel sabato che precede l'Elite Loppet. Sette vittorie una dietro l'altra, otto in totale, insomma tante belle storie, tante bei cavalli in un posto che come vedete come sempre è da sogno. Per cui vi aspettiamo da Casa Casillo, Matteo torno da voi ringraziando e salutando chiaramente il tuo ospite. Grazie Micol, allora più tardi per questi collegamenti che aspettiamo anche con trepidazione. Abbiamo visto insomma dei cavalli decisamente importanti, anche lei che se ne intende di trotto. Eh sì, qui parliamo di un Elite Loppet che si avvicina, insomma da poco. Sì perché gli argomenti in comune di cui parlava Micol sono anche questi, la Svezia, questo appuntamento che lei seguirà anche da vicino immagino. Sì, non so se riesco, sono andato quasi sempre, quest'anno forse non andrò, però insomma ci sono stato tante volte. È un appuntamento che conosce bene. Bene, adesso è il momento di presentare anche i programmi della giornata, lo facciamo come al solito attraverso la nostra agenda che ci mostrerà quali sono gli appuntamenti principali sul nostro canale. Dalle 12.30 dopo questa prima parte che conoscete di Ecotv Mattina, dalle 12.30 Ecotv in campo, poi alle 13.35 l'appuntamento con la radio per le ultime informazioni che arrivano dai campi. Poi le anteprime Tris e i campi di giornata che andranno in scena con il Trotto a Roma, Treviso e Albenga, Galoppo invece a Follonica. Le Tris del giorno, le vediamo riassunte nella nostra grafica parte bassa del teleschermo, tutte a Roma, quarta e sesta corsa per le due seconde Tris. Tris quarta e quinta è Roma, ottava corsa a 17.45, sempre nel convegno di Trotto. Andiamo a vedere i pronostici dei giornali proprio per quanto riguarda la Tris con Ecotv, Trottentarp e SNAI, le testate prese da riferimento. Come vedete il pronostico è molto diverso tra le tre testate, dunque grande equilibrio nella prova. Una prova che vede anche un jackpot sul Quintet, un jackpot che supera di poco i 1000 euro, sono 1084,42, questo è il jackpot che accompagna il Quintet di giornata. L'informazione partendo dalla stampa specializzata, Trottentarp, preparativi in corso, e parliamo della Gold Cup al Carrag, con una grande foto di August Rodin che sarà in azione proprio in Irlanda per questa prova. Poi l'Elite Loppet, le ultime notizie, Pierre Veloce analizza le chance di Orsi Dream, invece Darieu nel suo Go On Boy, due dei protagonisti più attesi della grande corsa svedese che vi ricordiamo Ecotv seguirà come grande evento con gli inviati sul campo e tutte le informazioni del caso. Grand National du Troyes alla Croise La Roche, la quinta tappa del Tour de France dei trottatori, avrà in Inaudio Lupin il logico favorito. Snoda Solval, Go On Boy a Cagni-sur-Mer, invece Inaudio Lupin sono le foto che in basso ritraggono i principali argomenti. stampa generalista, invece andiamo sulla Gazzetta dello Sport, Forza Pogacar domina anche a Santa Cristina e centra il quinto successo di tappa, oggi in una sfida c'è la cima Coppi, la tappa di ieri che vediamo in maniera più approfondita dopo è stata abbreviata per questioni di maltempo. titolo centrale, la dea di tutti, finale di Europa League, l'Atalanta per la storia, a Dublino alle 21 con il Leverkusen e caccia al primo trofeo europeo, potrebbe dare all'Italia il sesto posto in Champions, dunque la Roma naturalmente fa il tifo per l'Atalanta per ottenere anche l'accesso in Champions League. Lei segue il calcio? non particolarmente. Però l'appassiona la finale di Europa League. Io guardo molti sport e quindi sono appassionato sicuramente, cerco di guardare un po' tutto. Il calcio... In questo caso si fa il tifo per l'Italia, si va oltre il campanilismo. Esatto, esatto. Nell'articolo di spalla Inter d'America finita l'era Zhang, oggi il club passa a Octri, due consiglieri del fondo USA pronti a dimettersi dal CDA Nerazzurro, confermati i dirigenti sportivi. Dunque cambia poco in casa Nerazzurra, cambia la proprietà. Questo è il concetto. Andiamo adesso a un'altra pagina che abbiamo preso per la Gazzetta dello Sport, parla di Canottaggio, lotto mai visto, prima Olimpiade per le ragazze. Elisa Mondelli nel nome di Filippo. L'equipaggio femminile va a Parigi 2024, imbarca la sorella dell'Azzurro morto nel 2021 e il direttore tecnico Cattaneo vale come una medaglia. Questa è una qualificazione storica perché mai il Canottaggio femminile ha partecipato alle fasi finali, quelle delle Olimpiadi. Andiamo a vedere adesso ancora un'altra pagina di la Gazzetta dello Sport. Siamo su Sinner. Ieri il test per valutare la possibile partecipazione al Roland Garros. Sinner a Parigi, ok dei medici, riparte la corsa al numero uno. Questo ok dei medici fa venire in mente anche quello che accade sulle piste, no? Magari i veterinari a volte sono chiamati proprio a dire se il cavallo può correre o meno. Sì, assolutamente sì. Anzi è una grossa responsabilità, però è anche importante per evitare poi insomma conseguenze spiacevoli. Lì si rimane sempre sulla valutazione clinica o a volte si deve anche per forza considerare, non so, il monte premi, il tipo di corsa? Beh no, io direi che insomma è fondamentale l'aspetto sanitario. Poi indipendentemente, certo corse importanti, però non si fa tanta differenza insomma. L'importante è che vadano insomma sempre nelle condizioni fisiche migliori, insomma. Si cerca di prevenire il più possibile gli infortuni, insomma. Ovviamente, da tutelare il cavallo davanti a tutto. Sì, assolutamente. Ancora dalla Gazzetta dello Sport, Matteo, chi ti ferma più? Parliamo dell'impresa di Manassero che torna allo US Open, mancava il 2016 e coi Molinari è Tris. Parliamo di Golf naturalmente in questa pagina. Dal Corriere dello Sport invece, ancora prima pagina, l'Inter a Marotta. Si allungano i tempi per il rinnovo di Lautaro. Zhang non ha rimborsato il prezio di 375 milioni. Il fondo americano è entrato subito in azione. Abbiamo parlato prima, vedendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Altre notizie. Roma e Napoli fanno il tifo per Gasperini per la finale di Europa League. Il tecnico dell'Atalanta, prima della sfida al Bayern di Xabi, rappresentiamo l'Italia. Motta tra Saputo e la Juve. Decisione in 48 ore per l'allenatore del Bologna. Ranieri, unico, lascia il calcio. Domani Cagliari-Fiorentina. Ultima panchina per Claudio. Clamorosa decisione. Dopo la salvezza lascerà Claudio Ranieri che ha regalato la salvezza ai Rosso Blu. Il tecnico per me si è chiuso un cerchio. Grazie artista. Il fondo di Massimiliano Gallo. Ancora dal Corriere dello Sport. Ammutinamento ma vince sempre Pogaciar. Polemiche proteste per maltempo e rischi su strada. Cambiano le condizioni ma è sempre lui il mattatore di questa corsa. Pogaciar è ormai un personaggio copertina su tutte le pagine. Vediamo invece adesso un vecchio giornale. Stiamo parlando del tempo del febbraio 2022 con questo articolo. L'uomo che sussurrava ai cavalli. Il veterinario Conti conosce tutto del settore. Dalla guida agli allevamenti ai problemi degli animali. A Capannelle in gara il 3 anni di Gheroro allenato da Berri e guidato da Ferrara per la Camelot. E questo articolo naturalmente ci riporta il nostro ospite. Un ospite che come dicevamo è veterinario sì ma svolge anche attività nel mondo dell'ippica. Com'è nata questa sua passione dottore? Per l'allevamento dici per queste cose qui. Ma proprio per i cavalli in generale. Ah beh i cavalli in generale è una cosa un po' storica perché mio nonno che diciamo era un politico, è stato un politico, un senatore insomma aveva una gran passione per gli animali e soprattutto per i cavalli. Quindi lui nonostante fosse insomma un avvocato e quindi di tutt'altro però aveva sempre questo legame l'ha trasmesso a mio padre e poi mio padre anche a me. Siamo nati, sono nato in campagna e vissuto sempre in mezzo ai cavalli quindi era quasi scontato che insomma alla fine il destino mi portasse a questa cosa, a realizzare questo sogno che era quello di fare il veterinario. Insomma è stato quindi risale insomma da sempre. Questa voglia di fare il veterinario a parte la vocazione che come sempre ci vuole ma mi raccontava prima a telecamere spente che è nata perché voleva vedere da sopra il cavallo per avere una visuale completa. Sì, io ho iniziato a lavorare diciamo appena laureato ho avuto la fortuna di essere chiamato in una scuderia di un allenatore storico del trotto che è Odoardo Baldi e quindi quando ancora era già una certa età però era sempre un grande mi portò in scuderia da lui insegnandomi molto e trasmettendomi un po'. La passione per il trotto io ce l'ho sempre avuta per i cavalli, da piccolo andavo anche a vedere le corse da solo nei tempi in cui non ci si spostava tanto facilmente quindi già andavo da solo però insomma la scuderia da Odoardo è stato il primo passo mi ha fatto attaccare lui il primo cavallo e mi ha trasmesso questa voglia di salirci sopra perché da sopra poi cambia tutto insomma si vedono tante cose diverse quando mi parlavano dei cavalli che mettono la gamba in mezzo si attaccano su una guida serve i paraocchi serve le martingale insomma tanti piccoli accorgimenti allora da partita questa passione poi ho cercato di mantenerla negli anni quindi era come un approfondimento professionale si è stato proprio quello perché Odoardo che era una gran persona mi diceva vai vai in pista dimmi quello che vedi le sensazioni così e quindi ho cominciato così e poi mi è ritornato sempre utile insomma tanti insegnamenti di un uomo di cavalli di grande esperienza insomma poi ecco con esperienza anche di guida e poi più facile anche capire il cavallo perché ricordiamo il cavallo ovviamente come tutti gli esseri viventi ha dei sintomi l'unica cosa non può parlare non può descriverli invece avere anche questa possibilità cioè guidarli testarli sulla pista aiuta nell'analisi si aiuta aiuta molto a me è stato molto utile quindi instaurare proprio un rapporto diretto col cavallo come detto bene insomma loro non parlano quindi bisogna sempre cercare di capire nei limiti del possibile perché i cavalli sono animali molto sensibili e anche molto timidi sotto certi aspetti quindi bisogna insomma cercare sempre di arrivare alla soluzione del problema anche diciamo stando sopra il cavallo insomma torna molto utile e con l'aiuto di tutti i macchinari tecnologici che oggi ci danno veramente una mano importante sì di questo si è cambiato radicalmente la nostra professione da questo punto di vista siamo supportati da grandi tecnologie da tante cose però io sono insomma forse perché ho iniziato tanti anni fa quando non avevamo a disposizione ancora tanta tecnologia e quindi secondo me la manualità il tatto e la visita clinica rimangono la base per fare delle buone valutazioni e delle buone diagnosi poi chiaramente con l'ausilio il supporto di della tecnologia di questi macchinari insomma delle radiografie insomma tutti questi esami qui ecografici è chiaro che tutto diventa un pochino più semplice parte dall'esperienza empirica però la parte secondo me diciamo clinica l'aspetto clinico e la visita a contatto rimane una cosa una tappa fondamentale certo abbiamo delle diapositive delle clip che ci mostrano anche l'attività di giovanni conti chiede alla regia di mandarle in onda così piano piano vediamo anche quali sono state le tappe della formazione del dottore un dottore che è impegnato adesso sia nel trotto che nel galoppo questa prima foto cosa ci mostra questo è un cavallo italiano che è stato acquistato in svezia e che nei primi quattro anni ha fatto grandi corsi e grandi numeri bandito garra e qui vabbè con l'allenatore è uno dei ricordi adesso è in riabilitazione ha avuto un po di infortuni adesso sta ricominciando la sua speriamo a breve l'italiano vogliamo l'album ancora per vedere la successiva immagine e siamo sempre sull'attività un'attività che come dicevamo non riguarda solo il trotto ma anche nel nel galoppo è impegnato giovanni conti questo sempre un trottatore però sempre un trottatore qui dimostra anche la l'aspetto umano questa foto mostra tutta la vicinanza poi tra l'uomo e il cavallo insomma questo anche noi abbiamo bisogno di loro loro hanno bisogno di noi e certe volte bisogna capire perché proprio è difficile questo aspetto qui però tante volte basta poco per per risolvere un problema insomma sono tanti però insomma si cerca di fare eh sì altra tappa nel nell'album eccolo qui questo è la svezia sempre qui sono con il maniscalco e queste sono lì hanno tantissimi poni hanno scuole dove insegnano proprio ai bambini trasmettono la passione per i cavalli però gli fanno proprio una scuola fanno le gare fanno le competizioni tutto quanto quindi questo vabbè sono foto così simpatiche dal punto di vista culturale cambia qualcosa tra italia e svezia nel portiere del cavallo sì ahimè sì perché vabbè lì in svezia è uno sport quasi nazionale quindi quasi tutti hanno un cavallo quasi tutti trasmettono la passione per i cavalli ma soprattutto c'è formazione dai più giovani che poi è la cosa fondamentale penso questo in tutti gli sport e non solo nell'ippica no c'è una formazione che risale da piccoli e poi li porta insomma a aumentare le loro capacità durante gli anni ecco siamo con un altro cavallo sì questo siamo lì all'alimento un passo scuro un altro cavallo sempre trottatore da certi clienti con una problematica questo era allevato da me credo sì ah ecco sì perché l'attività d'allevatore invece ti vede coinvolto con quanti cavalli adesso ma visto coinvolto con un po' di 4-5 fattrici le porto avanti da tanti anni con grande sacrificio perché adesso insomma è un periodo un pochino difficile però cerco di andare avanti insomma finché ce la faccio mi piace anche da lì insomma dall'alimento portarli fino alle corse quella foto che abbiamo appena visto quelli sono sempre in piccoli interventi così non mi faccio tante foto quando lavoro quindi non ho tantissimo materiale però insomma ho cercato qualcosa anche questo è un intervento un cavallo di boni che mi ricordo questo è un intervento chirurgico? sì sul campo io faccio parecchi interventi sul campo insomma per quelli che si possono fare e quindi questo qui era un bel intervento è stato insomma qual era il problema qui? qui il cavallo aveva battuto c'è un problema sulle ossa del bacino sull'ileo avevo avuto scappando un trauma e quindi ho dovuto rimuovere un piccolo frammento di osso che si era formato dentro e questo però l'ho fatto lì in piedi sono foto anche un po' più diciamo ho preferito non metterle insomma c'erano degli interventi magari più cruenti più cruenti da vedere magari non piacciono e parla di interventi in campo quindi è come un pronto soccorso che avviene direttamente lì dove c'è certe volte si rende necessario perché insomma non si fa in tempo a trasportare i cavalli o nelle cliniche insomma dipende dalle circostanze poi alcuni interventi si riescono a fare bene anche insomma sul campo ecco per un intervento sul campo serve una preparazione specifica anche da parte vostra? sì 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 beh certo sappiamo bene quello che fare è chiaro che le condizioni non sono ottimali però molti interventi io li faccio sul campo poi quando c'è bisogno del supporto della clinica insomma si mandano le strutture idonee e gli ipodromi cosa devono avere? ci sono delle strutture o dei macchinari che gli ipodromi sono per legge? sì diciamo che in Italia un pochino meno le strutture sono private sono diciamo al di fuori degli ipodromi negli ipodromi nostri non ci sono strutture tanto adeguate però ci sono comunque ambulanze e cose per i pronto soccorsi per qualsiasi cosa succede diciamo negli ipodromi esteri si possono trovare invece delle cliniche addirittura dentro però insomma non è tutto quello che serve in caso di necessità ce l'abbiamo ce l'abbiamo bene più tardi con Giovanni Conti affronteremo anche tutto il percorso faremo vedere tutto il percorso che riguarda la veterinaria del cavallo diciamo dalla nascita del puledro in avanti quando diventa anziano e conclude anche la sua carriera agonistica ma adesso siamo pronti a tornare da Micol Fensi che vedo con un ospite Micol chi è? ciao Matteo è il mitico Manuele Casillo che presento ciao Manu ciao Buonasera e allora è davvero devo dire che la scuderia di Gennaro e Manuele Casillo perché ormai è vostra non è più solo di tuo padre ci accoglie sempre a porte aperte e Manuele ha fatto anche un bel lavoro per noi perché è colui che è riuscito a mettere insieme tutti quei video dei cavalli dei quali parleremo che sono in Svezia è vostra la scuderia Manuele ormai ci sei dentro con tutte le gambe gli do una mano io la scuderia è dell'allenatore poi io gli do una mano nel quotidiano per quanto possibile insomma Manuele tu avevi deciso di uscire un po' dall'Ippica ecco non ci sei entrato subito un mondo che ti è sempre piaciuto però hai sempre guardato un filo distante invece a un certo punto hai deciso proprio di entrarci a capo fitto si come avevo già detto un po' di tempo fa mio padre aveva bisogno di una mano dopo un po' quando anche avevo già intrapreso un'altra strada mi ha chiesto di andare a lavorare con lui alla fine eccomi qua insomma è andata così sono contento mi piace mi sono appassionato molto e niente stiamo cercando di provare a migliorarsi costantemente come giusto che sia per cercare di non rimanere mai indietro ed è insomma non è semplice no perché poi nel mondo dei cavalli abbiamo anche questa mattina Manuele un veterinario in studio le innovazioni ci sono sotto tantissimi punti di vista anche nei modi di lavorare tant'è che voi avete scelto a un certo punto di rivoluzionare completamente questo centro e di renderlo diciamo più funzionale proprio per quelle che sono le nuove tecniche di allenamento avete rifatto la pista tonda creando due livelli diversi avete aumentato il sabbione insomma che conosciamo creando anche qua due profondità diverse insomma un'evoluzione nell'allenamento sai anche secondo me anche andando fuori all'estero essendo andati in Svezia essendo andati un po' in giro in Francia cominciando ad avere diciamo un'impronta un po' più internazionale abbiamo visto delle realtà, delle cose nuove che cerchiamo anche di riportare qui da noi poi ovviamente da quando abbiamo preso possesso del centro con il nostro socio Giovanni Spallina ci ha facilitato molto le cose abbiamo potuto investire, abbiamo potuto fare dei cambiamenti che ci sembravano idonei e niente, ora qualche frutto si sta vedendo dobbiamo ancora finire, dobbiamo fare ancora un'altra pista che è là in costruzione e poi si sa tanto come in tutti i lavori ma anche nell'ippica è un'evoluzione continua quindi se ti fermi secondo me sei... insomma rimani indietro poi è difficile stare a passo con gli altri ci sono dei momenti nelle scuderie come chiaramente in tutte le scuderie di alti e bassi nei momenti di bassi che avete vissuto e che insomma tuo padre ma anche tu non hai mai negato da persone umili quali siete poi fondamentalmente nei momenti di basso che cos'è che conta per risalire il gruppo il sacrificio il riunirsi per cercare ecco di trovare quel bandro della matassa che a volte si perde cosa di più? Sì siamo diciamo un team prima di tutto che non è Gennaro Casillo ma è la scuderia di Gennaro Casillo che funziona e che tutti i giorni lotta per cercare di andare oltre le difficoltà è ovvio che quando poi si creano queste determinate situazioni ci si unisce ancora di più si cerca di avere un confronto sotto tutti i punti di vista e di venire fuori dai periodi bui che possono verificarsi insomma e da questi confronti insomma sono nate diverse vittorie, diversi bei successi di Achela ne abbiamo parlato e io non nego che è una cavalla alla quale io sono affezionata ci sono no quei cavalli che ti danno qualcosa in particolare però insomma ne abbiamo parlato Achela è una cavalla fantastica un'anziana che sta veramente tirando fuori il meglio di sé hai parlato anche vagamente di Cosmico Polare perché tu insomma in tutto questo innamorarti della scuderia hai deciso di diventare gentleman lo hai fatto, hai fatto il corso sei sceso in pista e quando si legge il nome di Emanuele Casillo su un programma insomma credo che gli altri inizino a tremare perché il tuo ruolino di marcia Emanuele è veramente incredibile devo ringraziare i cavalli prima di tutto che sono, ho dei cavalli fortunatamente ottimi che erano scarichi di somme vinte quindi c'è, insomma non hanno fatto corse impossibili ho fatto tanti primi perché insomma potevano, ci stavano molto larghi nelle categorie in cui correvano poi io cerco di metterci sempre del mio e di fare il meglio possibile e niente, ora parliamo di Cosmico perché Cosmico è un cavallo è un po' il tuo cavallo del cuore è il tuo cavallo, no? è quel cavallo che senti sì perché lo Cosmico Cosmico Polare chiaramente Cosmico l'ho voluto fortemente l'ho cercato, l'ho voluto, l'ho chiesto io come sai io ho dei soci anche nei cavalli siamo in tanti, in tanti ragazzi però Cosmico l'avevo adocchiato si era pensato di prenderlo poi all'inizio uno dei miei soci attuali che è rimasto dentro, il vecchio proprietario del cavallo poi ha deciso di darmelo perché era contento del fatto che io me lo prendessi per guidarmelo un gentleman principalmente gli piaceva il progetto gli piaceva la compagnia allora ho deciso di venderlo l'ottobre che ce l'ho dopo erano le aste anact se non sbaglio e poi niente gli abbiamo cambiato lavoro gli abbiamo messo nel sabbione piano piano il cavallo che era un po' pelandrone era pigro, ora ha cominciato ad avere anche molta più cattivaria agonistica ha fatto un'escalation che nessuno si aspettava sette successi a seguire ha fatto sette prime a seguire si è vero un gentleman ma crescendo sempre di categoria l'ultime due che ha vinto tra l'altro corse secondo me anche abbastanza difficili poi come le ha vinte e l'ultima volta ha corso contro contro brezza ducrasse che è arrivata seconda al renzo orlandi quindi siamo arrivati corso benissimo siamo arrivati terzi ma noi di fuori tutta strada siamo contentissimi insomma tutta la società è il cavallo che mi dà tanto di cui sono innamorato veramente quando ecco voi avete preso Cosmico l'hai voluto fortemente ti ha regalato una serie infinita di successi tra l'altro noi abbiamo visto le immagini di Cosmico e ti ringraziamo ancora Manuele perché insomma gli artieri che avete nel centro nel vostro centro di allenamento in Svezia sono stati fantastici hanno insomma ripreso Cosmico in tutte le ho rotte le scatole parecchie non avevo un dubbio io le ho rotte a te Manuele e tu a loro è tutta una catena lui adesso è in Svezia perché ci sei arrivato a crederci talmente tanto che il cavallo sabato nel weekend più importante del trotto svedese correrà una prova di gruppo 1 sì a Terra Novers una prova sui 3000 metri con i nastri lui parte allo start abbiamo deciso di provare perché il cavallo è in condizione stratosferica siccome allo start corre contro dei cavalli che hanno una storia completamente diversa dalla sua dei campioni anche con Pepper e altri però abbiamo deciso di fare questa cosa perché perché a noi piace rischiare siamo andati fino a Svezia perché poi il cavallo poi lo lascerò un po' là se riesco mi farò qualche corsa anche io su in Svezia ma era un tentativo che volevamo fare andiamo tutti insieme sarà vestito così senza quel bastone che in Svezia non si può mettere senza chiodi però sì lo vestiremo praticamente uguale lo guiderà Antonio con i nastri e niente abbiamo abbiamo voluto fare questo esperimento poi se è cosmico quello quello degli ultimi tempi potrebbe anche perché no strappare una piazza in qualche modo tra l'altro Antonio lo conosce perché l'ha già guidato e ci ha già vinto con Cosmico per cui Antonio anche se non l'avesse mai guidato sarebbe la stessa cosa perché Antonio è un campione però siamo insomma lo facciamo principalmente per stare insieme per l'amicizia che ci lega con tutti i soci che ci sono e per passare un bel un bel weekend poi dopo dove si arriva si mette un segno come si suol dire che bello spirito questo è proprio lo spirito poi per il quale nascono anche quelle che sono le società dei cavalli da corsa perché siete tanti proprietari mettervi d'accordo tutti è semplice Emanuele perché io ecco farei un po' di fatica per esempio sì assolutamente c'è uno c'è una persona però che ho la fortuna di avere una società veramente unita in cui in cui le decisioni si prendono insieme non ci si scontra mai perché principalmente siamo amici prima che essere soci quindi è una bellissima cosa come con Dalide Ronco è uguale abbiamo la società anche la tua prima vittoria con lui sì siamo soci anche con quel cavallo là è la stessa cosa identica se si vuole correre si corre se c'è un minimo problema lasciamo stare si va alla prossima senza problemi siamo siamo così questo è fantastico perché poi appunto il problema delle società è quando troppe teste ognuno vuole dire la sua e non si riesce a mettersi d'accordo invece quando nascono con l'amicizia il rispetto e la stima Manuele è tutto più bello noi siamo in un paddock cioè siamo intorno questo posto è meraviglioso io penso che ve lo abbiamo fatto vedere in tutte le sfaccettature ma ci sarebbero ancora tante cose da mostrare perché insomma siamo venuti qua spesso però siamo nel paddock dove c'è una cavalla eliseana la cavalla con il quale avete vinto il Trinacria una prova di gruppo a Palermo una cavalla di gruppo 3 a Palermo una cavalla che insomma che fin da subito avete ritenuto buona e importante è una cavalla anche che non ha tantissime corse nelle gambe è una cavalla un po' particolare è stata gestita veramente con i guanti perché ha un carattere molto acceso ha avuto un brillante inizio di carriera poi sarà un po' la vedete è la saura sfacciata sono in due e lei è la saura sfacciata prego poi dopo si è un po' diciamo sarà un pochino persa perché perché lei un pochino di questo carattere che ha ne subisce un po' e poi ora nell'ultimo periodo negli ultimi 4-5-6 mesi sembra aver trovato una maturità che prima non aveva e sta è migliorata sotto tutti i punti di vista sia atletico che comportamentale comportamentale è una cavalla insomma su cui puntiamo molto siamo veramente veramente fiduciosi per una carriera abbastanza importante ve l'aspettavate Emanuele quella vittoria di Detrinacria? sì sì perché la cavalla aveva fatto vedere delle cose negli ultimi mesi che ci avevano sballordito quindi sì ti direi una bugia se ti dicessi no la cavalla era in ordine stratosferico e si è vista infatti anche perché poi in scuderia c'è contezza di come lavora un cavallo poi è chiaro non si conoscono gli avversari però l'esperienza che avete l'esperienza di tuo padre di Gennaro è talmente ampia che ti rendi conto ecco se arrivi all'ultimo buco piuttosto che no mettiamola così un team il vostro forte quindi lo ricordiamo sempre perché tu prima hai detto una cosa importante hai detto si vincono le corse quando il team è coeso quindi quando il team va nella stessa direzione Antonio Di Nardo in cabina di regia ci sono stati un sacco di discorsi di chiacchiere Antonio resta Antonio va Antonio è rimasto da Gennaro Casillo Stefano Ciappi che è un'altra pedina importante Stefano è fondamentale sì è colui che sceglie le corse colui che collabora con voi le legge o no? Stefano è una figura troppo importante per una scuderia insomma del nostro livello che ti aiuta ti dà una mano sì a scegliere le corse a capire quando andare quando non andare a fare una trasferta però ti aiuta anche tanto nella gestione dei proprietari nella gestione delle persone siamo insieme a Fabio Frittelli che anche lui gli dà il famoso cinesino cinesino gli dà gli dà Manforte che ci dà che ci segue da tanti anni e sono sia Stefano che Fabio sono due figure veramente fondamentali e penso che siamo molto fortunati ad avere ad avere loro nel nostro nel nostro organico Gennaro Casillo chiaramente in cabina di regia quindi questo il tridente Antonio Di Nardo Stefano Ciappi Gennaro Casillo abbiamo cambiato la formazione Emanuele perché adesso non è più tre ma è quattro non è più il tridente d'attacco ma siete diventati quattro ma anche cinque perché c'è anche Alessandro Muretti che dà un grandissimo apporto al team che è il secondo di mio padre ed è un ragazzo eccezionale sia per la voglia di lavorare sia per competenza secondo me e poi io arrivo in fondo da ultimo dopo la banda grazie di aver ricordato insomma il lavoro che svolge Alessandro perché Alessandro è un driver tra l'altro bravissimo che è proprio svolge un ruolo primario nella scuderia che spesso non si vede sempre nascosto una pazienza infinita silenzioso testa bassa lavorare però vede tutto e permette anche appunto di spostarsi perché quando non ci siete voi c'è lui ed è un punto di riferimento e poi principalmente tutti i ragazzi del team tutti gli artieri che senza di loro sarebbe impossibile ovviamente no? che di solito non vengono mai non menzionati ma io lo faccio spesso Manu perché sono d'accordo con te cioè gli artieri sono fondamentali però sono parte fondamentale ora non posso nominarli tutti perché se no diventa lunga però sono sono eccezionali è bisogno degli solo grazie perché venga la mattina presto e vanno via solo quando hanno finito quindi insomma a volte Emanuele non fanno neanche un paio d'ore di sonno perché quando magari sono a correre lontano mi viene in mente Napoli mi viene in mente Foggia Palermo che i cavalli tornano li scaricano un'ora di riposo e poi di nuovo a scuderia a lavorare questo è un lavoro che ti vuole vedere in faccia esattamente non è una vita facile quella dell'artiere ipico quindi si meritano soddisfazioni risultati e tutto quello che comporta questo lavoro che è difficile ma ti dà anche tanto Di Capital ne parleremo con Gennaro che lo abbiamo lo attendiamo perché perché stava perché stava lavorando quindi insomma Di Capital ne parleremo con lui però solo una domanda caro Manu un invito importante quello di Capital all'Elite Loppet se dovessi firmare prima della corsa non ci sente nessuno dove firmeresti e se firmeresti una domanda difficile non firmerei per niente perché le corse dei cavalli sono talmente strane talmente imprevedibili cioè per valore ci sono dei cavalli superiori almeno sulla carta probabilmente come Ida De Tillard che ha vinto l'Americk poi c'è Francesco Zette che è un cavallo eccezionale Don Fanucci ce ne sono poi tutti quegli altri sono tutti cavalli eccezionali quelli che fanno la reddito dopo quindi però se se Capital è stato invitato è perché è un cavallo eccezionale a sua volta secondo me quindi è inutile dire per cosa per come vediamo come va siamo contenti di partecipare è un'emozione unica un orgoglio quindi quindi andiamo con fiducia poi starà Antonio starà a cavallo cercare di di prendere il più possibile ovvio però non filmo per niente e devo dire che questa è la giusta chiusura di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto Manuele noi ti ringraziamo tanto 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 per averci accolti per averci mandato i video che vedrete anche poi di Capital Mail e per il sorriso che tu porti in questo lavoro e la grinta perché non perché è bello ecco tutto qua grazie grazie a tutti se è possibile sì decisamente sì Matteo per il momento è tutto andiamo a prendere Gennaro Casillo lo tiriamo giù dal sulchi perché ne sta facendo un milione e torniamo da voi tra poco va bene intanto un saluto ovviamente a Micheal Fensi a tutti i suoi ospiti tra poco con Casillo andremo avanti nel collegamento soprattutto siamo curiosi di vedere le immagini che arrivano dalla Svezia arrivata da Capital Mail uno dei portabandieri italiani al prossimo Elite Loppet adesso con Giovanni Conti torniamo a parlare di veterinario e lo facciamo riassumendo un po' in maniera stringata quali sono le tappe che vedono coinvolto il veterinario dalla nascita del cavallo anzi dicevamo ancora prima da quando c'è la gestazione della mamma Sì il percorso è lungo però stringerlo è un po' difficile da dove vogliamo partire allora riassumiamo le tappe per far capire soprattutto a chi non conosce bene come avviene tutto il processo della nascita del puledro della preparazione allo svezzamento che viene intorno ai sei mesi e poi la doma la preparazione per il cavallo in pista tutte tappe che sono accompagnate ovviamente dall'analisi anche sanitaria del cavallo per capire sempre quali sono le sue condizioni e soprattutto per valutare lo stato migliore anche per per il cavallo allora la mamma è gravida e sta per partorire quali sono le analisi che vengono fatte in questa fase beh diciamo quella è la prima fase quella più importante in cui insomma si inizia da una fattrice che porta avanti una gravidanza e già lì in questa fase qui vanno fatti sempre dei controlli gestazionali poi dopo ovviamente quello che faccio un po' io insomma partire dalla mamma fino a arrivare un pochino al puledro che poi debutta e arriva in pista ecco il puledro nel primo giorno di vita ha già il veterinario accanto ovviamente perché lì bisogna assicurarsi di cosa è assicurarsi che loro diciamo i puledri appena nascono hanno bisogno di bere il primo latte quindi il colostro e loro non hanno anticorpi alla nascita non passano nella placenta dalla mamma e quindi hanno bisogno di bere questo latte questo colostro per assumere tutti gli anticorpi questo deve avvenire in tempi abbastanza rapidi tra le 6 e le 8 ore quindi però se fa tutto secondo natura se va tutto bene si alzano subito dopo mezz'ora stanno in piedi e quindi vanno a cercare subito la mamma e questo colostro questa è la prima fase il veterinario è lì accanto e deve assicurarsi che il cavallo quindi si alzi e vada a prendere il primo latte questo colostro questa è una cosa più importante per evitare poi setticemie infezioni cose di questo genere però perché il colostro immediatamente lo rende lo rende vitale lo rende vitale e gli dà gli anticorpi necessari vitale è protetto diciamo da tutto la prima protezione è quella poi dopo nel periodo diciamo dell'allattamento che dura da 4 a 6 mesi diciamo ci pensa quasi tutto la mamma però loro iniziano ad alimentarsi spontaneamente da soli a breve dopo 15-20 giorni anche prima cominciano a mangiucchiare un pochino imitano la mamma e quindi iniziano le prime fasi insomma in questo periodo qui vanno fatti solo i controlli sanitari diciamo relativi alle vaccinazioni alle sferminazioni insomma profilassi di routine e poi siamo allo svezzamento svezzamento è un'altra fase molto importante da seguire sì lo svezzamento è la fase più importante perché poi alla fine loro non hanno più il supporto della mamma del latte materno e quindi va lì la parte dell'alimentazione è la parte fondamentale vanno seguiti bene in questa fase qui insomma adesso un po' si intrecciano le attività di veterinario ma anche quella di allevatore di Giovanni Conti siamo nella fase in cui dopo lo svezzamento i cavalli vanno separati maschi femmine comunque sempre con l'idea di stare in gruppo sì devono crescere insieme devono stare in compagnia devono imparare a giocare a litigarsi il cibo e a convivere questo è molto importante perché poi se lo ritroveranno un domani in pista certo i maschi dalle femmine si separano per ovvie ragioni a un certo punto non immediatamente ma insomma all'avvicinarsi dell'anno di età vanno separati e vanno fatte anche dei controlli lì in questo caso anche diciamo sugli appiombi sulle gambe soprattutto sugli zoccoli vanno seguiti compareggiamenti e lì anche il maniscalco insomma ha un ruolo fondamentale in questo caso perché la cura del piede è uno degli elementi più delicati che avviene nella fase anche di avvicinamento alla doma la cura del piede che nel cavallo è molto delicato e questa cura richiede ovviamente la complicità che tra il maniscalco e il veterinario no? Sì perché loro insomma fondamentalmente non tutti nascono con degli appiombi perfetti hanno dei difetti di appiombo che se uno li corregge quando sono giovani riescono diciamo si riescono a correggere bene e quindi insomma gli zoccoli i piedi sono le basi sono le fondazioni come di una casa insomma quando partono con dei bei piedi e buoni piedi almeno dal mio punto di vista siamo già a metà insomma di tutte quelle che poi saranno altre problematiche in futuro quindi è importante secondo me avere particolare attenzione per questa cosa qui insomma è importante E poi dopo la doma abbiamo gli esami radiografici che ci danno un po' un quadro iniziale anche poi da confrontare più avanti di quelle che sono le condizioni del cavallo anche per scongiurare i famosi chip o altre patologie del genere è importante perché diciamo quando iniziano l'allenamento inizieranno a fare un'attività sportiva diversa da quella che hanno fatto sempre stando nel campo e quindi di solito è buona abitudine quasi tutti gli allenatori lo richiedono insomma un esame radiografico completo degli arti per evitare appunto questi piccoli inconvenienti che dopo potrebbero rallentare la preparazione potrebbero rallentare insomma le fasi di allenamento quindi si fanno controlli radiografici si escludono patologie questi chip si sono dei piccoli frammenti che stanno nelle articolazioni che potrebbero dare noia come non darla ma insomma in genere si fanno questi controlli radiografici e poi dopo da lì iniziano le varie fasi dell'allenamento senza imprevisti ecco senza interruzioni allora tutti conosciamo il famoso chip di Varenne che nella sua vita Varenne che ha festeggiato qualche giorno fa i suoi 29 anni ma nella sua vita non gli ha mai dato problemi per fortuna insomma sappiamo che anche adesso rimane un suo piccolo difetto che però è interno al ginocchio senza fastidio dipende da che articolazioni si trovano e insomma quali in che posizione anche sono certe volte non danno fastidio beh lì anche la valutazione del veterinario è importante spieghiamo bene cos'è questo chip sono dei piccoli frammenti di cartilagine osseo che si staccano nell'articolazione nelle prime fasi dentro l'anno di vita in genere diciamo le cause non sono proprio chiarissime ma probabilmente c'è un fatto di alimentazione importante c'è anche un fatto genetico importante però non sono grandi patologie sono patologie tutt'oggi risolvibili insomma quindi però è importante che vengano valutate insomma bene e il passaggio successivo poi il cavallo è pronto per correre diciamo ci si avvicina quindi alle competizioni e a quel punto ovviamente si tende a proteggerlo da eventuali fastidi quindi tenendolo sotto osservazione e si interviene quando invece ci sono dei piccoli problemi quali sono quelli più frequenti che accadono in fase di allenamento ad esempio beh diciamo c'è una po' di differenza fra trottatori e puro sangue ecco c'è una differenza proprio di struttura perché il trottatore ha delle articolazioni un po' più robuste un po' più forti loro hanno delle patologie diciamo più legate alle piste dove si allenano perché il trottatore deve scorrere su una pista liscia vengono fatti quasi dei tavoli da biliardo perché ci devono girare le ruote dei sulchi quindi loro hanno delle problematiche relative alle piste di allenamento e il puro sangue ovviamente loro vengono allenati sull'erba sull'ulguetere sulla sabbia piste un po' più morbide piste un po' più sconnesse con dei fondi un pochino più irregolari quindi sono un pochino a rischio diciamo le patologie più frequenti sono diciamo iniziano con magari dovute al cambiamento di allenamento alla velocità però insomma sono patologie tendine e qualche patologia sempre dello scheletro insomma osse non importanti però maldistinchi e altre mal idrottatori con il mare ai piedi appunto perché dicevo poi è importante perché insomma si allenano su piste abbastanza dure e quindi insomma e qui parliamo di Galoppo opportunamente la nostra regia ci ha messo in copertura queste immagini del derby dei di domenica scorsa dei Capannelle un evento un evento che anche lei ha seguito credo con interesse sì perché questo qui è un cavallo che seguo io di quali parla di Alberto Carassi quello che ho visto lì nell'Arnaldi che ha vinto il derby dei gentlemen il derby dei gentlemen sì bene vabbè questa è la soddisfazione finale insomma alla fine tutto il percorso che si parte dalla mamma poi arriva a questo che insomma nel caso qui non è che e sì perché la vittoria di un cavallo è anche un po' del suo veterinario beh anche insomma è un lavoro di tutti importante fondamentale però insomma alla fine ognuno si ritaglia la sua parte di gloria anche prima abbiamo visto in collegamento con Micheal Fensi cosmico polare un cavallo che lei conosce bene sì lo conoscevo ai tempi che stava diciamo in Italia da Puletro insomma avevo seguito anche lì un po' di tappe del suo sviluppo si vedeva che era un discreto cavallo insomma promettente insomma sì sì me lo ricordo con piacere allora queste erano le problematiche dei cavalli impegnati nel galoppo quelle del trotto invece quali sono le più specifiche del trotto beh le problematiche sempre riguardano gli arti inferiori diciamo che il trotto è un'andatura che va insegnata nascono trottatori sono trottatori a tutti gli effetti però bisogna insegnarli a trottare quindi ci sono tante patologie legate proprio a questo fatto qui quindi alle impostazioni la bravura degli allenatori insomma legata alle impostazioni alle patologie anche loro ce le hanno soprattutto traumatiche un pochino di meno perché hanno una struttura più forte secondo me diciamo l'infortunistica è un pochino più presente nei puro sangue proprio per un fatto strutturale però loro hanno problemi di meccanica cioè bisogna insegnarli i passaggi le impostazioni e le ferrature ecco le ferrature nel trotto sono fondamentali perché pochi millimetri pochi spazi diciamo di solito sono fondamentali per un buon trottatore insomma però sono le patologie più importanti sono queste qui ecco ha sottolineato più volte l'importanza delle ferrature il piede deve deve poggiare nella maniera giusta ma mi chiedevo se come per gli esseri umani anche lì adesso l'aiuto dei macchinari che studiano l'appoggio la postura può essere d'ausilio o anche lì l'esperienza empirica del veterinario conta di più beh lì conta soprattutto la bravura del manischialco questo è fondamentale per gli appiombi poi nel trotto esiste un mondo di ferrature una quantità di ferrature che non sono nel galoppo sono tantissime però diciamo sì l'esame podometrico in Italia non ce li abbiamo questi apparecchi però so che all'estero esistono e si studia molto questo problema ecco parlato di estero stiamo vedendo le immagini dell'Elite LOP del 2022 una corsa che ha seguito da vicino ci ha detto prima e qui stiamo stiamo proprio concentrati sulle fasi preparative della corsa su Samot queste immagini comunque ci mostrano il paese scandinavo che può essere anche un modello dal punto di vista della cura veterinaria anche lì dai suoi colleghi esteri non so se c'è anche lì interscambio di informazioni sì sì c'è interscambio di formazioni c'è collaborazione assoluta insomma diciamo noi magari in Italia abbiamo un pochino più di fantasia abbiamo un pochino più di coraggio nelle nelle valutazioni o nelle risoluzioni dei problemi io questo penso che sia la differenza ma loro comunque Svezia sono molto bravi hanno delle belle strutture insomma è bello questo tipo di collaborazione insomma trovo che sia una cosa allora veniamo alla sua scuderia invece adesso come allevatore lei ha parlato prima di un po' di fattrici insomma sono 4-5 fattrici sono alcuni cavalli la scuderia si chiama Camelot e questo è un omaggio a Re Artù no? sì è stato un nome così a un certo punto mi piaceva Camelot mi chiamo Conti C e la C insomma la spada mi piaceva questo nome così perché il logo è la spada nella roccia la spada nella roccia sì vabbè è sempre un simbolo di forza no? e allora l'ho interpretata così eh sì vabbè questo è circostanziale insomma al mio lavoro mi capitava di prendere magari delle cavalle curarle farle correre e poi metterle in riproduzione dà una bella soddisfazione tanto nell'articolo del tempo che è sul nostro touch vediamo la foto di Visitor che è forse il cavallo a cui è più legato sì beh l'ho allevato proprio io è nato da me ho ancora la mamma c'è ancora lui adesso è in convalescenza ormai ha dieci anni e ha fatto tante battaglie sia in Italia che in Svezia ha corso anche in Francia insomma è stato un cavallo buono simpatico spero di ripresentarlo che è quello che vorrei guidare e con cui ancora non sono riuscito a vincere una corsa ecco e poi ti chiede di raccontarci una storia Frisham Pirate Frisham Pirate era un cavallo di una cliente mia che sta in Svezia era un cavallo affetto da una patologia al nodello diciamo una patologia tendinea non l'avevano voluto operare e quindi diciamo alla fine ho convinto i proprietari invece di fermarlo e toglierlo dalle corse di darmelo a me l'ho portato in Italia l'ho operato anche lui sul campo dico tanto è mio l'intervento è andato bene ci ha vinto ci ha risultato a vincere ci ha deciso delle corse stava nella scuderia di Mario Malzone poi l'ha guidato anche a Bellei anche lui insomma era un buon cavallo quello che doveva essere questo mi ha dato molta soddisfazione alla fine gli ho dato gli ho fatto un regalo e l'ho messo in razza come stallone per godersi insomma la sua carriera in maniera bella simpatica sta ancora da me ancora un buon sangue americano insomma è stato un po' sfortunato via se no aveva partecipato al derby dei tre anni in Svezia aveva fatto delle belle corse poi l'infortunio purtroppo in Svezia tanti cavalli si infortunano per via delle piste delle condizioni climatiche loro sono costretti sotto le ferrature d'inverno a portare dei ramponi dei piccoli ramponcini che gli evitano di scivolare e questo certe volte causa insomma dei traumi e lui è stato anche questo un problema per lui però adesso sta bene felice e sereno insomma si gode la sua vecchiaia allora formazione del veterinario sappiamo in Italia è intensa ci sono grandi studi alla base proprio di questa di questa professione ma come avviene l'aggiornamento sul campo che abbiamo sentito ma ci sono poi anche degli altri metodi di studio degli aggiornamenti professionali che consentono poi al veterinario di essere sempre aggiornato anche che so sulle sostanze che si possono dare ai cavalli da corsa ad esempio si l'aggiornamento è costante e continuo insomma quando mi sono laureato io era un pochino più difficile oggi i neolaureati hanno la possibilità di andare lavorare nelle cliniche anche all'estero fare delle formazioni abbiamo la fortuna di avere in Italia una bella società che comunque fa tanta informazione la Sive e quindi partecipiamo regolarmente anche io dopo tanti anni insomma ci vado sempre con piacere perché insomma comunque c'è sempre un po' di aggiornamento poi le esperienze sul campo quelle sono soggettive determinanti però la formazione c'è si deve fare ed è importante ha parlato prima di un caso di un suo cavallo che è stato rimesso in piedi quando sembrava che dovesse invece smettere di correre quali sono stati invece i casi di maggiore soddisfazione per lei come veterinario tra Trotto Galoppo Italia e Svezia questa è una domanda che adesso è un po' difficile i casi sono stati tanti diciamo che magari qualcuno in particolare non c'è stato però cavalli che non andavano sono tornati a gareggiare a buoni livelli ce ne sono stati tanti insomma adesso non faccio i nomi però insomma ho avuto tante soddisfazioni devo dire insomma perché il lavoro del veterinario almeno come lo interpreto io insomma deve essere un pochino a 360 gradi nella scuderia bisogna centrare un po' le problematiche io cerco di farlo nella maniera migliore possibile però insomma i cavalli ce ne sono stati tanti anche quello lì che avevamo visto nella foto prima anche in Italia insomma partecipare ai gran premi alle cose importanti sì sì ci sono stati certo e poi come dicevamo quando si raggiunge il risultato il cavallo diventa un risultato di tutto lo staff che segue che segue il cavallo beh questo è un lavoro che si deve fare io quello che consiglio a tutti sempre siccome richiede tanto impegno e tanti sacrifici anche di tempo di farlo sempre con passione insomma questo è un lavoro che bisogna farlo solo se si ha la passione veramente l'amore per questi animali il motore di tutto questa passione ma la specializzazione nei cavalli per quanto riguarda la sua professione veterinario è avvenuta in corso ci sono anche degli altri animali che lei ha seguito sì all'inizio sai uno si guarda un pochino anche se l'obiettivo mio era sempre di lavorare sui cavalli ho fatto esperienza con un po' di tutto sono andato anche io all'estero sono stato in Miami in Florida insomma degli impianti bellissimi quindi poi sono stato anche in Francia in Svezia sempre cavalli sempre cavalli sì 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 bello il Pompano Park è uno degli ipotoni più grandi più belli poi lì ci sono trottatori ambiatori insomma ci stanno tante specialità però perché nella formazione c'era distinzione grandi animali e piccoli animali sì bello all'università adesso sono cambiate un pochino le cose ai miei tempi insomma era sì era su tutti gli animali certo era tutti insieme poi dopo uno si specializza e cerca di adesso ci sono tante scuole tanti corsi noi ce la siamo fatta un pochino da sola un pochino tutti però insomma alla fine quello l'esperienza conta tanto bene ancora in pausa Giovanni Conti perché siamo pronti a tornare da Micol Fensi Micol che è pronta per questo nuovo collegamento un collegamento nel quale poi invitiamo Micol anche se vuole a fare qualche domanda al dottor Giovanni Conti insieme al suo ospite Giovanni Conti che peraltro come abbiamo sottolineato prima conosce anche alcuni cavalli che ora sono allenati dal staff di Gennaro Casillo ad esempio cosmico polare che Giovanni Conti ha conosciuto ad Ardea quando era nelle prime fasi di crescita Micol grazie Matteo finalmente con il vero padrone di casa Gennaro Casillo il vecchio di casa il vecchio sì come ti sminuisci Gennaro intanto grazie veniamo spesso da te e farlo per festeggiare con un po' di ritardo ma insomma ci siamo beccati con calma una vittoria straordinaria come quella del Gran Premio Lotteria sì vittoria straordinaria specialmente per un napoletano vincere lotteria e tanta roba diciamo che non mi sono meravigliato ma abbastanza eri emozionato avevo il cavallo pronto però insomma era una corsa molto difficile dopo vinto penso di averlo assimilato dopo due giorni sì dopo due giorni sei arrivato a capire davvero che cosa stava succedendo è stata una corsa incredibile intanto è ripartito Gennaro chiaramente non con i favori del pronostico perché insomma c'era un vernissage griff che insomma che era sotto la paria era il cavallo da battere Antonio Di Nardo ha fatto un capolavoro trovando un cavallo però preparato a puntino perché poi sono tante le cose che devono incontrarsi per riuscire a far questo sì diciamo che dopo Torino nessuno si aspettava che il cavallo potesse correre come a corsa a Napoli e quindi c'erano dei forti dubbi e quindi vincere dopo non essere nemmeno nella rosa dei favoriti è stato ancora più bello diciamo numero anche in seconda fila insomma ci sono tante cose numero però scelto attenzione scelto da Stefano Ciappi scelto da Stefano Ciappi e con una motivazione importante perché sapeva che c'erano diversi partitori lui ha detto voglio questo numero perché il cavallo lo risparmio e poi quando è il momento voleva ritagli lo strappo sì sì perché quando strappa tanto violento poi dopo magari manca un po' in arrivo ma diciamo non strappando così ha reso veramente al top non sto guardando la corsa sta guardando la corsa che ancora ti fa venire il magone sì ma non intendo la guarda Antonio Di Nardo ha fatto veramente una magia perché quando ha fatto la morsa vincente è un momento giusto ha fatto quello se non sfila non vince ha anticipato all'esterno velotti di quei secondi che poi ti fanno la differenza è un attimo sono quegli attimi che i campioni devono cogliere quindi l'ha colto l'ha colto trovando un capital male veramente veramente preparato a puntino come lo hai portato a lotteria a gennaio quali sono quegli accorgimenti che tu hai usato per dopo Torino per esempio per per arrivare totalmente al top vabbè a Torino poi dobbiamo dire che c'è stato uno strappo violento e il cavallo secondo me ha risentito anche di quello strappo forse no ma c'è stato comunque un bel 27 scarsi quindi e qui ti vediamo e quindi anche quello poi ha corso con i ferri cose che lui non 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 accetta correre con i ferri va sicuramente più piano ma tanto più piano ma perché ha dolore per quale moto c'era la pista dura lui in quel momento là aveva avuto un po aveva piovuto tanto il cavallo in paddock si erano ammorbiditi un po troppo i piedi ci ho lavorato tanto vicino ma è arrivato un po' a Torino diciamo forse non al 100% quindi la prestazione è stata non bella diciamo un po' negativa e come dicevo prima nessuno si aspettava che a Napoli io sapevo il problema e quindi non ho fatto altro che risolverlo ecco non è che c'erano dei trucchi c'è stato un piccolo problema di assetto risolto a Napoli è risolto devo dire nel migliore dei modi con una grandissima vittoria un cavallo gennaio che non hai diciamo sotto il tuo training da molto come hai cambiato da gennaio da gennaio hai cambiato anzi più che hai cambiato che tipo di lavoro hai scelto per lui quando ti è arrivato in scuderia come lo hai portato insomma alla condizione di adesso l'ho cambiato io non so se l'ho cambiato comunque sicuramente io non so cosa faceva lui da solo A ma l'ho cambiato facendogli fare un lavoro di routine pesante morbido e mai fargli vedere la pista tonda solo lavorandolo in dritta in dritta e basta sabbione pesante o leggero sabbione pesante ma ho alternato perché è un cavallo particolare è troppo pesante non è non va bene quindi ho dovuto alternarlo un po' e noi adesso lo stiamo vedendo in Svezia perché Gennaro Casillo come insomma in tanti sapete ha un centro di allenamento anche Svezia un distaccamento vero e proprio della scuderia 15 cavalli insomma pochi no 15 però lui è lì adesso e sta facendo dei lavori leggeri lo vediamo Emanuele ci ha mandato tutti i video di Capital sta facendo il jogging e aspetta me domani per fare un lavoro più sostanzioso diciamo sei tu che rifinisci ma sì sarà meglio che domani gli do un'occhiata sarà meglio che domani gli do un'occhiata la dice lunga quindi gli hai fatto fare sostanzialmente un lavoro di routine sì perché facendo un viaggio così lungo venendo da una corsa molto impegnativa avendo fatto tre prove e quant'altro lui alla fine insomma di lavoro ce n'ha doveva fare solo mantenimento ho fatto due prove qua poi è partito ho fatto un po' di training leggero lì e domani vediamo come sta come è rimasto se ti dovessi chiedere su una pista sulla pista svedese sia batteria che finale sia batteria che finale confido molto nelle piste e confido molto in lui con la scarcia di quattro tutte e due ok quindi la condizione la valuterai domani al meglio chiaramente perché il cavallo sta bene è ovvio se ti dovessi chiedere caro Gennaro firmeresti prima della corsa perché allora la batteria tra le due forse è quella un filo più complicata e questo lo sappiamo abbiamo in pista avversari di levatura internazionale cioè stiamo parlando di delitto del trotto già e noi ci siamo delitto del trotto e noi ci siamo già abbiamo messo un punto vediamo dove si arriva ma prima della corsa firmeresti e cosa? allora devo dire che padre e figlio avete fatto la stessa espressione perché l'ho chiesto anche a Manuele vediamo se anche la risposta è la stessa allora diciamo diciamo che firmare è più facile uno mette una firma dice so che mettere una firma per questo ma la mia vita è stata sempre una scommessa tutta la vita quindi io non firmo io non firmo prendo quello che viene si va dritto? si e prendo quello che viene e anche la stessa risposta di Manuele anche lui si 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 Manuele ha detto no ero in pista quando ha fatto la sua intervista quindi stavi lavorando si ma penso che sia abbastanza logico mettere la firma per gli scontati non do niente per scontato il lotteria potrebbe aver firmato per un terzo e invece ho vinto e quindi il top posso vincere arrivare ultimo ma non si firma prima della corsa si corre le corse sono fatte per corse viverle spettacolo e non si firma prima Gennaro noi ci eravamo visti l'ultima volta nel tuo centro di allenamento dove insomma ti sei anche un po' messo in discussione dopo la bellissima vittoria di Achela che abbiamo visto tra l'altro prima Cavalla che ancora ha una forma eccezionale ci siamo visti ho detto sì ho un periodo dove sto facendo fatica un periodo che ho bisogno di rimettere a posto un po' di cose le hai rimesse a posto Gennaro e devo dire che lo hai fatto mettendo in discussione te stesso tutto il team e cavoli stanno arrivando le grandi soddisfazioni perché è vero Capital Man in lotteria credo sia la più grande di quest'anno però hai plasmato un cavallo come Cosmico Polare che con Emanuele sta facendo veramente ha un ruolino di marcia incredibile ed hai vinto anche il Trinacria con una cavalla che hai molto rispettato che hai tenuto molto sulle uova mettiamola così fino e non è da te tu sei uno che va in pista ecco ma lei l'abbiamo rispettata perché era una cavalla che aveva i mezzi ma non aveva la testa era una cavalla molto particolare quindi se fosse andata come dici tu sarebbe stata già non si dice allettiera cioè vuol dire che sarebbe già arrivata perché mentalmente non era abbastanza forte abbiamo aspettato che crescesse un po' che maturasse e poi dopo abbiamo cominciato ad andare nel Trinacria ha fatto veramente una gran corsa aveva già fatto due prime importanti anche a Napoli persa il 30 anche i 50 metri a partire vinse bene quindi aveva dimostrato di andare molto forte nel Trinacria è uguale poi vedi una cavalla che è una femmina parte va a far mille chilometri come lei come andrà a Palermo non ha subito nulla sono cavalli veri cavalli che hanno insomma una bella testa nonostante il carattere fuocosa sta venendo fuori adesso come hai detto di rispettata corso poco e siamo arrivati a quello che era l'obiettivo di portarla a fare qualche corsa un po' migliore ecco e il futuro di Elise? ma il futuro di Elise stiamo andando sempre con i piedi di piombo siamo tranquilli non abbiamo per forza bisogno di fare cose importantissime cerchiamo un altro gruppo 3 si rifà un'altra corsettina per quattro anni e poi dopo vediamo e poi dopo vediamo e adesso invece caro Gennaro è arrivato il momento di parlare ma a questo punto ti chiedo al nostro veterinario studio il dottor Conti di parlare visto che lo conosce di fare lui qualche domanda a Gennaro per Cosmico Polare cavallo del quale tuo figlio si è innamorato lo ha voluto fortemente e insomma vi state divertendo mettiamola così tra l'altro in pista sabato in Svezia in una prova di gruppo 1 sui 3000 metri Gennaro allora quella corsa là non era una corsa da fare diciamo siamo andati in Svezia c'era il cavallo rimane in Svezia per correre lì e quindi c'era l'opportunità di farlo correre in quella giornata lì e l'abbiamo fatto correre ecco ma con coscienti di quello che abbiamo fatto insomma che è un sogno vero sì questo sì è un salto nel buio Matteo il dottor Conti vuole fare delle domande al nostro Gennaro allora intanto salutiamo Gennaro Casillo uno degli allenatori che stima di più mi diceva il dottor Giovanni Ponti ciao buongiorno ciao e poi sì c'è questo precedente che li lega di cosmico polare e poi parliamo anche un po' di ferratura immagino dottore beh ciao Gennaro buongiorno mi senti? ciao ciao no vabbè io intanto colgo l'occasione per farti i complimenti perché ancora non ci sono riuscito per la vittoria nel lotteria noi ci conosciamo da tanti anni però è sempre un'occasione valida che cosa io lo conoscevo Cosmico stima reciproca grazie lui stava lì a Ardea ti ricordi Cosmico io l'ho seguito dalla Doma fino insomma alle prime corse aveva fatto vedere sempre che era un discreto cavallo però hai fatto una magia eh che dici cambiato un po' quel cavallo là mi sono ritrovato in scuderia senza sapere sì vai prego prego Gennaro quel cavallo me lo sono ritrovato in scuderia senza saperlo una mattina Manuela ha detto arriva un cavallo si chiama Cosmico Polare intanto lo stiamo vedendo è proprio lui nelle immagini poi non l'ho mai visto fino a che sì sì è lui è lui Svezia ecco mi senti sì sì ti sentono vai vai Gennaro e niente ti dicevo che io da quando è arrivato non l'ho mai visto perché l'ha lavorato sempre Emanuele perché se l'è comprato diciamo quasi per lui anche se sono non so quanti soci sì sono tantissimi soci una marea di soci insomma lui è anche serente è stato per guidarsene in Gentleman e così ha fatto e se l'è preparato ha lavorato da solo ovviamente ha capito un po' il sistema come bene vediamo insomma dai risultati e se l'è preparato da solo diciamo che ha fatto un ottimo lavoro e credo penso che non abbia mai no non ha mai avuto bisogno che io gli mettessi bocca o mano ha fatto sempre tutto da solo questa la devo dire perché sembra che l'abbia preparato io e portato io a correre e a fare quello che ha fatto questa è una delle qualità che io adoro in Gennaro Casillo che appunto l'umiltà è quando lui non ci mette le mani oppure non non ci capisce niente lo dice con una serenità Gennaro e ti fa un onore incredibile guarda che no vabbè ma è un dato di fatto non è che non capisco perché io debba dire una cosa per un'altra se l'è preparato ha fatto un lavoro di routine che si fa normalmente qua non è che lui ha fatto delle cose particolari come gli dico sempre io è troppo facile fare così però non ha fatto costantemente quello che non gli manca è la costanza e quindi poi alla fine ha avuto i suoi risultati e ha continuato ad andare bene ho continuato a non metterci bocca squadra che vince non si cambia il dottore avevo sentito che ha accennato per parlare di mascalcia e la mascalcia di Gennaro è una penso delle più fornite ai Deferri nonostante oggi non servono a nulla i ferri perché corrono tutti i scherzi però servono per esempio per correggere in scuderia sì ci sono tanti ma perché ora c'è nemmeno insomma comunque ci sono dei problemi che bisogna risolvere e ci aiutiamo con le ferrature poi si va a correre si leva tutto però ci aiutiamo specialmente i puliti i giovani hanno bisogno di magari un po' di aiuto l'ultima domanda e poi e poi ci salutiamo ho visto Eliseana che è proprio qui nel paddock a fianco a noi questa meravigliosa cavallina che ha un piede particolare una ferratura particolare ha tipo una resina sopra l'unghia sì perché lei cresce cresce quel piede là cresce male e siccome lo aiutiamo con la resina per mettere i chiodi e non metterli nella resina e non metterli nel piede che gli danno fastidio i chiodi quindi lavoriamo sulla resina e non sul piede capito lasciamo i piedi intatto è questo giusto per darvi ecco un'altra chicca di come di quale attenzione ci sia soprattutto proprio io le chiamo le scarpe dei campioni Gennaro ma ognuno di noi se sta male nella scarpa poi o se gli fanno mal i piedi non ripeto meno oggi ma prima la prima cosa era le fondamenti i piedi tutto partiva dal basso quindi le ferrature quando andava via un cavallo da un allenatore andava un altro cambiavano le ferrature per far andare forti i cavalli e per farli cambiare adesso adesso con andare scalzo è diverso lavoriamo solo sui ferri quando c'è da aggiustarli un po' ecco Gennaro Gennaro ha un aereo che parte per la Svezia quindi allora ti lasciamo in bocca al lupo forza dottor Casillo perché perché sei un pezzo d'Italia in quello che è il panorama del trotto mondiale a Napoli a Satrapa italiana in Svezia sarà difficile ci proviamo e divertitevi e mi divertirò Matteo a voi grazie Nicola e grazie Gennaro Casillo che salutiamo gli facciamo anche da qui ovviamente in bocca al lupo per la trasferta svedese abbiamo sentito i capital mail che correrà con i quattro ferri nel rispetto del piede dell'animale in questo caso l'allenatore si travesta un po' da veterinario eh sì per forza vabbè poi te l'ho detto sulle ferrature c'è un mondo e quindi è importante però lui sa come deve fare Gennaro bene grazie anche a Manuel Casillo per le immagini che arrivavano dalla Svezia emozionanti anche quelle ci mostrano un po' l'atmosfera di Solvalla in questi giorni grazie a lei dottor Giovanni Conti per essere stato con noi grazie anche a voi per avermi ospitato è stato un piacere e per questa puntata dedicata alla veterinaria e al collegamento esterno con Gennaro Casillo è tutto grazie per averci seguito arrivederci Gennaro Casillo grazie a tutti